In occasione delle celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate svoltasi nel capoluogo lucano dinanzi al monumento ai caduti nel parco di Monte Reale, insieme alle autorità politiche, militari e religiose lucane, ha voluto essere presente nella sua prima uscita istituzionale da ministro l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la quale, candidata e successivamente eletta alle ultime politiche in Basilicata, ha manifestato e voluto esprimere concretamente il debito di riconoscenza verso una regione, verso i cittadini, che le hanno dato modo oggi di ricoprire l'importante incarico governativo. Ho scelto Potenza come mia prima visita come ministro anche per onorare un debito di riconoscenza per una terra che amo molto e che mi ha eletta, quindi l'avevo detto e l'ho fatto. Dopo la cerimonia dell'Alza Bandiera, la Casellati, insieme al prefetto di Potenza, al presidente della regione Basilicata, al presidente della provincia di Potenza, al sindaco di Potenza e al comandante della legione Carabinieri Basilicata, ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato ai caduti in guerra e prima del suo intervento, nel quale ha ringraziato per la professionalità e il coraggio le donne e gli uomini delle forze armate, ha donato simbolicamente ad uno studente dell'Istituto Einstein di Lorenzo di Potenza, un tricolore come ricordo dei traguardi raggiunti in passato e il messaggio che il raggiungimento della pace richiede costanza e cura.